Le travi in ferro sostengono le pareti spoglie, erbacce incolte crescono qua e là. Le lamiere sono accattastate nel grande atrio che si apre alla vista, una volta entrati. Sotto i nostri piedi due piani di parcheggi, per un totale di 48 posti auto accessibili grazie a un montavetture elettrico. Siamo nella pancia di quello che è stato per tanto tempo nell'immaginario collettivo degli anconetani, l'ex metro, ma questa struttura adesso praticamente vuota, quasi uno scheletro, potrà diventare qualcosa di diverso. Scopriamo insieme come cambierà l'ex metro, che cosa diventerà? Sarà uno spazio sviluppato su tre piani più il piano interrato. Il resto del piano terra sarà occupato da una o più superfici commerciali che si svilupperanno anche al primo piano ed in parte anche sul secondo piano. Il resto, la destinazione sono unità immobiliari che potranno essere indifferentemente ufficio o appartamenti a secondo delle richieste di mercato ovviamente. 3 milioni e 200 mila la cifra che la Metropolitan Building, la proprietaria della struttura, dovrebbe versare al comune, che però si accontenterebbe del restyling di piazza Cavour, stimato in un milione e mezzo di euro. Diversa la spesa per mettere in sicurezza e riqualificare l'ex metro. Sono stati spesi 4 milioni e 7, lavori fatti dall'Aedra di Senigallia, l'Aedra Costruzioni, e per portare a termine grandi linee penso che ci avranno circa 10 milioni di euro. La situazione si è sbloccata grazie al via libera arrivato dalla soprintendenza. Non più una sala da 700 posti, ma un caffè letterario da 300. Ora Palazzo del Popolo deve approvare la variante urbanistica. Invece di essere la sala da 700 posti che era prevista nel piano regolatore, vigente, sarà una sala polifunzionale, diciamo uno spazio culturale polifunzionale. L'interburocratico della variante influirà sulla tempistica della durata dei lavori. Nell'arco dei 2-3 mesi pensiamo di poter partire con i lavori per mettere in sicurezza la parte esterna e tutto quello che riguarda il cemento armato. Dopodiché speriamo che nel frattempo che serviranno sui 8 mesi circa che facciamo i lavori di messa in sicurezza, il Comune riesca a fare la variante affinché poi continueremo con i lavori per portarla a termine. Un anno e mezzo per poter terminare il tutto.